Siracusa dà al Comune una card per l'erogazione gratuita di acqua potabile. La Comune stipula un accordo con il gestore delle case dell'acqua dislocate nel territorio della città di Siracusa. Il Sindaco comunica che, oltre ai supporti economici previsti per il rifornimento di vivere e della spesa per i cittadini siracusani che si trovano in condizione di disagio economico a causa dell'acquirse dell'emergenza sanitaria, verrà donata una card che prevede l'erogazione gratuita di acqua potabile. Vorrei ringraziare e dichiarare il Sindaco Italia a tutti i gestori delle case dell'acqua che hanno aderito a questa iniziativa permettendoci di creare un'opportunità unica di risparmio e abbattimento dei prezzi per tutti coloro che hanno necessità di comprare l'acqua in bottiglia e di sviluppare un'azione ecosostenibile di economia circolare a difesa del nostro ambiente in previsione di un consumo inferiore di bottiglie di plastica, usa e getta.